non hai tempo per andare dal prestinaio ma vuoi sempre trovare il pane in tavola la soluzione è facile il pane di ieri ordinalo subito per te i migliori tozzi di pane e gli avanzi del giorno prima il pane è il nuovo maiale non si butta via niente grazie al pane di ieri potrai risparmiare denaro e salvaguardare l'ambiente grazie al riciclo di pane il pane di ieri immagina gli innumerevoli utilizzi che potrai farne il pane di ieri è quel che aspettavi vuoi avere il pane fresco sfornato questa mattina chiama domani per avere il tuo pane di ieri il pane di ieri dacci domani il nostro pane quotidiano il pane di ieri è un prodotto storti sponocere gravemente alla salute grazie a tutti grazie a tutti